Igles, io sono arrivato alla fine di questa scena, sono al caffè. La prima domanda mi viene spontanea, ma io ho assaggiato una serie di piatti, sapori anche con un mix particolare, interessante e innovativo. Ma ti viene ancora voglia di creare nuovi menù a questo punto, visto che questi vanno benissimo? Senza ombra di dubbio sì, perché la nostra rincorsa è sempre per le tre stelle, sempre, cioè a vita proprio. Ci sono stati capaci di prendere due a Trigavolo, una alla Tamericci e una all'Acqua, però il sogno è sempre quello di arrivare più in alto, quindi di conseguenza siamo propensi a migliorare. Con l'aiuto del mio staff, sicuramente, faremo cose ancora più precevoli. Senti, nel tuo futuro c'è sicuramente questa terza stella, invece nel mio io domani ritorno a mangiare a casa, ritorno al mio tran tran, ovviamente tornerò a riassaggiare questi sapori, ma pensi che riesca a trovare soddisfazione a mangiare i solidi piatti di casa dopo che ho provato questo mix? Beh, i sapori di casa sono sempre i sapori migliori, no? E l'importante è che in questa serata l'Akman è riuscito a darti qualche emozione, quindi andrai a casa con qualcosa di unico. E' una riscoperta di gusti sconosciuti? Avrai qualche nota in più nel tuo modo di degustare il cibo, se hai sentito degli accostamenti nuovi. Bene, io ti ringrazio, sicuramente una scena da tre stelle, mi auguro che anche il caffè, ma non vedo perché sia di questo livello. E' un'arabica di Lely, sicuramente un caffè ad un buon livello. Ecco perché, insomma, io ho notato la ricerca dei particolari in tutto, nel pane fatto da voi ma in un mix di prodotti, la scelta anche delle acque minerali, perché ora non voglio fare la pubblicità, però qui utilizzate l'acqua minerale frizzante italiana che è la più rinomata anche in America. Bene, non faccio raffreddare il caffè, ti lascio alla tua cucina che sicuramente ti chiama. Ciao e a presto. Grazie.